Sacrificio d'amore Il loro è un amore impossibile, lei è la moglie di Corrado Corradi, l'uomo per cui Brando lavora. Nel corso della prima puntata abbiamo assistito al loro primo incontro, immediatamente è scattato qualcosa tra i due e la passione ha preso il sopravvento. Cosa accadrà nella seconda puntata e non dalla prossima settimana? Scopriamolo insieme. Il secondo appuntamento con Sacrificio d'amore vi aspetta venerdì 15 dicembre in prima serata su canale 5. Silvia infatuata di Brando nella seconda puntata di Sacrificio d'amore. Se Brando continua a rifiutare di rivedere Silvia, l'uomo non vuole avere niente a che fare con lei, ma allo stesso tempo non riesce proprio a dimenticarla. Intanto a Carrara arriva un grande scultore e, nonostante Silvia non sia d'accordo, Corrado gli offre di visitare il laboratorio d'arte di Alessandro Lucchisi. Silvia si trova quindi costretta a rivedere Brando e solo al pensiero la donna trema dall'emozione. Nel frattempo la signorina Maffè non fa altro che rendere impossibile la vita della domestica Maddalena, soprattutto dopo aver saputo che la ragazza si è fidanzata con il nipote Tommaso. Infine Alberto diventa padre di una figlia illegittima avuta da una contadina e sa bene quali siano le regole della famiglia Corradi. Nonostante Alberto voglia diventare padre e riconoscere la figlia, decide di rinunciare alla piccola, ma impone una condizione alla sua famiglia. Alberto, infatti, chiede di essere lui il candidato della famiglia Corradi alle prossime elezioni, al posto quindi di Corrado l'amore difficile di Maddalena e Tommaso nella seconda puntata di Sacrificio d'amore continua il racconto delle storie impossibili. Oltre all'amore complicato di Brando e Silvia, assisteremo alla relazione di Tommaso e Maddalena ostacolata in tutti i modi dalla signorina Maffè, infine Alberto vorrà candidarsi alle elezioni, come reagirà la sua famiglia? Riusciranno Brando e Silvia a dimenticarsi? Non ci resta che aspettare la prossima imperdibile puntata di Sacrificio d'amore. Grazie a tutti.